Ha omesso di registrare fatture emesse nei confronti di clienti per godere del regime fiscale dei contribuenti minimi che prevede vantaggi per l'imprenditoria giovanile con importanti sgravi sulle imposte. I controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Tiene hanno fatto emergere le irregolarità a carico di un'impresa individuale operante nel settore della meccanica con sede a Tiene. L'azienda è risultata essere evasore totale ai fini dell'IVA per gli anni dal 2016 al 2018. Ricalcolate anche le imposte dirette, dovrà ora versare all'erario una somma vicina ai 70.000 euro.